è bella seguiamo le macchine comunque abbiamo trovato tutti matti li troviamo abbiamo trovato uno che ci ha parlato tipo della pensione che per carità è un argomento abbastanza interessante però vai da due ragazze così a caso a parlare della pensione e giustamente ci hanno detto attenzione perché noi sembriamo malate con questo seguiamo le macchine andiamo su e c'è il mio parco stiamo a villa borghese e mo se la vede tutto andiamo amore ragazzi casa di vale tanto estremia eccoci il biglietto tu ricordi dove si fa io no oddio io no biglietteria lì qui no veramente c'è da fare un sacco di roba qui c'è una valentina silvallica vedo che cosa guarda ciao giraffa giraffa ma che te giri a fare vale 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 non si vede ma lì giù che dormono ci sono i licaoni che sembrano quelli del re leone che mangiano e quelli che sembrano un po iene ciao cucciolo ma quant'è carino sembra quello di una notte al museo come sa che è lui c'è la stessa razza guarda guarda quella qua sopra chi è la stessa cosa dolce ciao ciao principino queste sono le scimmie dal culo rosso bello sì veramente guarda che piccole lì c'è la gazzella non so se si vede si corre veloce gli avvoltui guarda come sta a prendere il sole sta a prendere il sole che carino Valentina ha pensato questa cosa è vero zebbre quanto so carine zebrine io e Valentina che mangiamo ma qua non è un'offesa qui ci sono le leopardi però si sono messi strani mannaggia si vedono poco dici che là si vedono meglio wow ma c'ha le zampe bellissime è adorabile no già si vede poco quella è la lince shit oh lince è bellissima vince vince la lince che fai sciocchino sono proprio belle ma quello che stavo a fare con quello blu guarda tanto sono lenti ippopotamo corello però è solo con quest'acqua proprio pulita paro io mentre mangio comunque vale vieni qua stavo dicendo che è bello tornare al dioparco anche da adolescenti perché si torna a bambini vero vedo se è bambina sempre dai vale fai la serie un attimo si lo pensi anche tu si ti stai divertendo? si io non amo Leo dove sono i tuoi amici? tigri come o di là andiamo piedini amò piedini orsi bruni bruni come i tuoi capelli lì giù c'è la tigre bianca però non so quanto potete vederla c'è solo la faccia sono in casa beh vabbè eccola qua fallo dammi cinque sono stupida ma è bella beh poi dici perché perché si ha le tigrossine ma basta ma sono sempre schifo delle tigri guarda un po' che è sporcato i cappelli no vabbè no che schifo questa è la lingua delle tigri ah molto carina bella udito vista baffi denti mascella unghie antiposteriori dimensioni mantello ah dolcezza dai questi coca no wow per un futuro le tigre di Sumatra perché siete delle mie tigrottine e io le tigre le amo sono tipo il mio animale preferito addirittura guarda deve arrivare qua su però vai lì un marzetto che darmi darmi la meraviglia quanto sono rossi ci sono anche gli alligatori io c'ho una paura non so perché c'ho l'ansia vero sono adorabile si vedono subito ah là c'è freddo dai comincia il gel ma te stuggi te stuggi te stuggi un po' un po' ansia sinceramente è freddo immagino di qui qua fa freddo dai c'era un po' un po' di voce freddo ah qua comincia che figa attenzione ci sto bene spiegando qua scende l'acqua scende l'acqua sì wow cartaruglia è tutto di cazzo no oddio il coccodrillo come il ca si vede meglio di là è giganormale no è bellissimo ma te sei rinitizzato cucciolo ecco le nuve guardati guarda qua bello orantino